Era stato il suo ultimo post datato 13 ottobre 2020. Iole Santelli scriveva L'attesa è finita, stiamo lavorando senza sosta e con grande passione per cambiare l'immagine della nostra Calabria. Il corto, diceva, di Gabriele Muccino è un'opera magnifica che ci permetterà di far conoscere come mai avvenuto prima la bellezza misteriosa e piena di fascino di una regione unica al mondo. L'opera, come il suo sogno, è stata proiettata in anteprima assoluta nel teatro studio Gianni Borgna alla presenza di Muccino, degli attori protagonisti Raul Bovar, Rosio Munoz Morales e del producer Alessandro Passadore. Nel posto riservato al presente Santelli è stato posizionato un grande mazzo di rose rosse e bianche. In sala, come aveva organizzato lei stessa, tante personalità del mondo istituzionale e della cultura tra cui il presidente facente funzione della regione Calabria, Nino Spirli, gli assessori regionali Gianluca Gallo, Fausto Orsomarso, Sergio De Caprio, Sandra Savaglio, Francesco Talarico e Domenica Catalfamo. Parlamentari e consiglieri di tutti gli schieramenti politici, il sottosegretario Anna Lauro Rico e il commissario della Calabria Film Commission Giovanni Minoli. Prima della visione di Calabria Terremia è stata proiettata una clip dedicata al primo presidente donna della regione realizzata con materiale video registrato a margine della conferenza stampa di presentazione del cortometaggio avvenuta la scorsa estate e che ricorda una frase bella e tipica di Iole Santelli «Voglio che chi guarda questo corto dica, sai che c'è? Il prossimo weekend me ne vado in Calabria». Il cortometraggio, prodotto da Viola Film per Regione Calabria, ha una durata di otto minuti. Racconta la storia di un uomo, Raul Bova, che porta la sua compagna, Muñoz Morales, a conoscere per la prima volta la Calabria in un viaggio alla scoperta degli angoli più suggestivi della regione. Protagonisti assoluti sono i prodotti calabresi, il bergamotto, il cedro, le clementine e il limone di rocca imperiale che rappresentano il filo conduttore dell'opera, il tutto condito dalle effusioni amorose di due fidanzati. Tra un «Quanto sei bella» di Bova e la promessa di Rossio «Da qui non me ne vado più». Alla presentazione anche l'omaggio di Muccino, che ricorda l'incontro con Iole Santelli. Dalla prima volta che ho incontrato Iole, ha detto Muccino, non abbiamo smesso di sentirci e di chattare. Era un canto continuo che celebrava la Calabria, ancora prima che fosse raccontata in questo corto. In chiusura, il tributo del presidente facendo funzioni Nino Spirli. La Calabria ha raccontato che madre non aveva mai avuto una madre. Se l'è donata da sola, ha voluto Iole, che è riuscita ad essere madre della sua terra e di tutta la sua gente. Ha lasciato degli orfani che la porteranno sempre con sé, così spregiudicatamente ricca di cultura e umanità, con la capacità di essere un politico senza mai essere un politicante. Iole, ha concluso Spirli, ha cancellato le tante brutte pagine dedicate alla Calabria, con un dolce e forte prepotenza di madre, e ha deciso che da oggi bisognerà solo parlare delle cose profumate di questa terra. Ma quello che conta è che ogni volta che si vedrà anche un solo fotogramma di tutto questo lavoro, sarà sempre sicuramente riportato alla figura di chi lo ha creato, di chi lo ha voluto, nel suo cuore. Iole, grazie. Grazie.